ma non si muove non si muove ma muove si muove quando vieni in su perché gli dai il colpo quando sali al limite ma quando vai in su non si muove ma non può muovere quando vai in su che magari gli da la gasata andiamo e lì avanti che non so cosa c'è ma che è tre mesi che non passiamo e lì avanti ci sono i due buchi e una vita che non andiamo giù quando arrivi che c'è il davanti indietro 20 centimetri dagli un colpetto venite oh come no andiamo in giù andiamoci noi anche seve tanto dire e se vuoi fino al cimitero ma bisogna vedere com'è lì avanti perché c'è altri due buchi e guardiamo com'è ma ci fermiamo tutti va la lucertola che sale l'avete fatta scappare è andato in condominio arriva lo seve ma va ma è peggio a zero il problema è girare lì e poi tu sei sceso tutto nel buco se stai un po' più alto vedi che da punti un po' di qua prendi meno il corpo ma non si muove non si muove non può muoversi da quando gli ho saldato il pezzetto va già in fronte del giusto nel stesso tiro basta